Buongiorno a tutti, io sono Angela e voi siete sul mio canale Tutto dal Web. Nello scorso weekend, sabato e domenica scorsi, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, Trono Over e Trono Classico. Abbiamo anche noi messo un'anticipazione, ma oggi vogliamo soffermarci su quello che è successo a Gemma Galgani, perché si è lasciata andare ad un pianto disperato dopo che Costabile l'ha lasciata davanti a tutti. Scopriamo insieme nei dettagli che cosa è accaduto. Gemma cambia look, ritrova se stessa ma non l'amore. Da tempo la Gemma Galgani che noi tanto conosciamo lamentava il fatto di non avere ancora dei corteggiatori per lei, nonostante il nuovo look, il nuovo cambio proprio d'immagine. Quando però meno se l'aspettava, dalle scalinate scende un bellissimo uomo, eccolo qui, Costabile, molto affascinante che le ha chiesto di uscire con lui. La frequentazione è andata ben oltre, infatti tra loro due è scattato anche un bellissimo bacio. Bacio passionale che pare nelle puntate che stiamo vedendo in onda andare su Canale 5, fa sì che questa frequentazione tra Gemma e Costabile stia andando avanti. Ma nell'ultima registrazione, ragazzi, c'è questo bel ma, Costabile e Gemma non stanno andando molto bene, perché proprio lui si è detto deluso dal comportamento della dama di Torino. Gemma invece accusa Costabile di non dargli molte attenzioni e di non rispondere mai ai suoi messaggi. Costabile invece ha espresso la sua delusione nei confronti di Gemma perché lei non vuole e non è disposta a uscire dal programma con lui. Sentendosi quindi preso in giro, Costabile ha deciso davanti a tutti di chiudere la frequentazione con Gemma. Tutto a seguito, ragazzi, da un pianto disperato della Galgani che prova a improlarlo ma non c'è niente da fare. Ovviamente si è intromesso poi Maria De Filippi per cercare di salvare la situazione e a oggi non si sa se Gemma e Costabile stanno ancora insieme. Lui però di certo ha chiuso la conoscenza con lei. Scrivimi tu che cosa ne pensi, lasciami un like se ti va, attiva la campanellina perché solo così sarai sicuro e sicura di non perderti questo ma nessun altro prossimo video.